Questa proposta, ovviamente, e la presentazione del Comitato Scientifico sarà accompagnata dalla presentazione dei Comitati Promotori dei Cittadini, che saranno un po' il fulcro e la base con la quale diffonderemo questa iniziativa. La proposta del cambio del nome della città di Nocera Superiore in Nuceria nasce da un'esigenza, quella di valorizzare le tante emergenze archeologiche che sono collocate fisicamente sul territorio di Nocera Superiore ma rispetto alle quali c'è anche una scarsa capacità di fruibilità. Non essendo una nostra diretta competenza, perché questa appartiene alla soprintendenza archeologica, stiamo tentando in qualche modo, accanto alla pianificazione urbanistica che abbiamo approvato, di procedere con questo ITER che ci porterà poi all'indizione di un referendum, quindi un percorso, come dicevate, complesso ma che non ci vede scoraggiati, anzi entusiasta per il grande consenso che nella nostra città sta trovando.